Musica 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 Terza giornata Seven Cup Red Devils contro Kennedy Partita 3 a 3 Molto equilibrata Era partita in discesa Per i Red Devils il 3 a 0 il primo tempo Si sono fatti rimontare Vediamo il numero 16 qua con il piatto Prova a fare il portiere Machiavelli Sbaglia un tiro diciamo a botta sicura Riparte veloce Red Devils con Cuomo Ma l'arbitro fa ribattere La rimessa dal fondo Portiere appoggia per Bencivinga Bencivinga porta palla Appoggia per Daria il centrale dei Red Devils Che lancia a lungo cercando Cuomo Molto bene il difensore Vediamo De Rosa Portapalla gira per Bene per rotta Che appoggia di nuovo per schiattare Si trova il pallone sui piedi Ma Mazzoni attento e Alleggerisce in difesa Vediamo appoggia a lungo per Come siamo questo? Edgardo Edgardo che viene fermato da Lautiero Lautiero Spazza in rimessa laterale Si riparterà con un Battuta laterale Vediamo Machiavelli Appoggia per De Rosa Fanno girare bene la palla ai Kennedy Bene Lautiero De Rosa ci prova dalla distanza Edgardo prova una deviazione Ma il portiere non si fa per fare Vediamo Machiavelli Anzi no Mazzoni copre bene il pallone per il portiere Mazzone Posta dalla difesa Poggia per il compagno sulla fascia destra Andiamo Cuomo in copertura Viene superato però dall'avversario Bene Bencivinga Machiavelli si gira bene sul sinistro Bencivinga non trova il tempo per il tiro Bene Daria Che spazza ma ancora Possesso palla Anzi no questa volta Cuomo Recupera il pallone Qualche giocata di troppo per lui Una zona del campo dove è un po' rischioso Vediamo Daria recupera Lancia lungo per Schiattarella Ma Pazzone è ben posizionato E appoggia di testa per De Rosa Vediamo Cuomo Va a fare pressing E commette fallo Vediamo l'arbitro con colpe molto attento Battono veloce I Kennedy giocano molto rapidamente Ci prova dalla distanza Vediamo un colpo alla testa Per Bencivinga Il gioco fermo per Vedere la situazione del Difensore dei Red Devils Si partirà con una palla contesa Palla a Cuomo con un dribbling Se ne va a Cuomo, Cuomo in velocità Poi già schiattare davanti Ancora Mazzone Ottima partita di Mazzone La posizione centrale di difesa Ci prova la Mazzone di punta Edgardo non trova il gol del vantaggio A un metro dalla porta Ci prova è scivolata ma Mette il pallone in fallo laterale Vediamo Bencivinga Mi ha fermato bene Ottima la prestazione Questo giocatore dei Kenna Prova a calciare Si perde ancora un altro pallone Si partirà con una rimessa dal fondo Andiamo la palla al portiere Palla per Perrotta Perrotta lancia lungo per Lautiro che però Si era inserito centralmente Si partirà con una rimessa laterale Vediamo qua l'ultima azione Mazzone Mazzone Perde palla Lautiro che serve schiattarella Schiattarella con una finta Sopra l'avversario Ma viene fermato al portiere Che è molto attento Chiudiamo qui il collegamento Dalla partita Anzi no vediamo quest'ultima azione Schiattarella serve Lautiro Lautiro si gira Ma ancora bene il portiere Ancora Schiattarella Pallone sul fondo